Martins Satriano, nuovo attaccante dell'Empoli. È una buona scommessa al fantacalcio? In tanti me lo state chiedendo e adesso vi dico che ne penso. Inquadriamo un attimo il giocatore. Intanto è un attaccante di 21 anni, uruguayano e italiano doppia nazionalità, in prestito dall'Inter all'Empoli. L'anno scorso ha giocato in Ligan dove ha fatto 4 gol in 15 presente. Ora, il giocatore sarà titolare? Probabilmente no. Il titolare dell'Empoli dovrebbe essere destro, però destro è molto discontinuo. difficilmente arriva a fare 30 presenze. Quindi un po' di spazio solo dovrebbe ritagliare, almeno una ventina di presenze di cui la metà da titolare dovrebbe farsele. Quanto investire su di lui? Non più dell'1% del budget. Lo considero un ultimo slot d'attacco. Si dovrebbe fare la coppia con destro per avere più sicurezza, però se fai questa coppia, negli altri 4 dovresti avere almeno 2 semi top e quantomeno un titolare. Mi raccomando iscritti al canale, buon fanta!